Amici del canale youtube di Grossoshop.net, nel video di oggi vi mostreremo i test di benchmark di Meizu Pro 5 contro Galaxy Note 5 quindi come al solito bentornati insieme a noi Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione